Ciao a tutti, come fargli sentire la mancanza di te? Dieci modi comprovati per far sentire la mancanza ad un uomo. In questo video voglio insegnarti come far sentire la mancanza ad un uomo per attrarlo, per sedurlo, per coinvolgerlo, per fargli innamorare. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo nuovo canale, Crescita Personale con Massimo Terramasco, è un canale in cui credo molto, credo possa esserti utile nella tua crescita personale, in amore, nel lavoro, nella seduzione, per cui se ti iscrivi ovviamente mi fai un favore, mi fa molto piacere che tu ti possa iscrivere a questo canale, dimostrando qui un attestato di simpatia per il canale stesso e verso di me. E cliccando, basta cliccare quindi sul tastino iscriviti, poi selezioni la campanellina, tutte le notifiche, così riceverai le notifiche dei nuovi video e non te li perderai. E veniamo al tema, come fai a sentire la mancanza di te? Dieci comprovati modi per far sentire la mancanza ad un uomo. Allora, se tu riuscirai a mettere in atto queste strategie, queste modalità comportamentali, riuscirai a far sentire la tua mancanza ad un uomo, riuscirai a far sì che quest'uomo possa coinvolgersi, possa innamorarsi fondamentalmente di te, perché noi percepiamo l'amore come mancanza. Purtroppo siamo fatti in questo modo, cioè purtroppo per fortuna siamo fatti in questo modo. L'amore lo percepiamo come mancanza e se percepiamo la mancanza ci sentiamo innamorati. Questo è un dato di fatto, dobbiamo prendere in considerazione. Quindi far sentire la mancanza è il modo migliore per far sì che lui percepisca di essere innamorato di te. Perché siamo fatti strani, diciamo così, ma se non percepiamo la mancanza non attribuiamo, cioè non ci sentiamo innamorati praticamente. Quindi impara a far sentire la mancanza per far sì che un uomo ti percepisca veramente come innamorato. Cioè un uomo si percepisca come innamorato. Bene, e veniamo quindi al tema. Veniamo al tema. Allora, quali sono le modalità per fargli sentire la mancanza? Allora, la prima è lasciati deliberatamente rabbia e rancori alle spalle. Cioè quando interagisci con un uomo dai indifferenza. Quando interagisci nel senso che lui non si comporta nel modo giusto, non stare lì a sviluppare rabbia, rancor e risentimento, ma dai indifferenza. Semplicemente lasciati le cose alle spalle e non prenderla neanche in considerazione. Dare indifferenza è uno dei modi principi per far sentire la mancanza. È uno dei modi principi veramente per far sentire la mancanza a un uomo. Questo è quello che dovresti imparare a fare, che dovresti riuscire a fare abbastanza rapidamente, diciamo così. Il secondo modo, cioè la seconda azione, ovviamente tutte queste azioni vanno fatte in sinergia. Non devi farne una, vanno fatte un po' tutto. La seconda cosa è lasciare degli spazi. Non essere appiccicosa, non essere invasiva, non essere pedante, pressante. Lasciare gli spazi, ma nel frattempo coltivarti i tuoi interessi, coltivarti le tue amicizie, coltivare le tue passioni. E anzi, lasciare spazio alle tue passioni, ai tuoi interessi, alle tue amicizie. Questo ti farà percepire come indipendente, ti farà percepire come distaccata, come se non avessi necessità di voler stare per forza con quest'uomo. E questo è un qualcosa di molto importante, perché ti farà veramente percepire come una donna attraente, ti farà percepire come una donna di valore, ti farà percepire come una donna attraente, ti farà percepire come una donna di valore, ti farà percepire come una donna che, diciamo, che merita di essere conquistata. Tre, terzo punto, fallo attendere un po', non eccessivamente, ma un po' prima di rispondere ai suoi messaggi. Cioè non essere lì, che non sembra che non fai altro che guardare il telefono, aspetti il messaggio che ti arriva e ti metti lì a smanettare e risponde. Assolutamente no, non devi stare lì a smanettare e rispondere appena, appena arriva. Devi prenderti i tuoi tempi, prenderti i tuoi spazi e lasciare di tempo, lasciare di spazio. E quindi non rispondere subito, ma prenderti spazio, prenderti tempo, in modo tale che tu possa essere, diciamo, come dire, dimostrare che non gli stai correre dietro, fondamentalmente. Questa è un'altra cosa importante. Quarto punto, quando noti che avendo applicato tutte le altre cose prima, quindi dargli un po' di indifferenza, lasciare spazio e coltivare i tuoi interessi, farla attendere un po' prima di rispondere ai messaggi, è probabile che lui voglia accelerare un po' la relazione. Cerchi di avvicinarsi un po'. Comunque, quando lui cerca di avvicinarsi, quando lui cerca di voler, diciamo, far sì che la relazione diventi più, potremmo dire, pressante, una relazione più formalizzata, tu prenditi tempo, rallenta. Perché, anziché, se tu rallenti, poni qualche vincolo proprio lì dove tu vorresti arrivare. Cioè, tu vorresti che lui si impegnasse di più nei tuoi confronti. E proprio per quello, in quella direzione, tu rallenti. Tu rallenti e dice, no, c'è tempo, la fretta è cattiva consigliera, vediamo come vanno le cose. Questo gli genererà, come dire, gli sembrerà di volerti conquistare. Quindi il fatto che magari ti sposa poi, gli sembrerà veramente una sua conquista, gli sembrerà veramente qualcosa di aver vinto dal super analotto, diciamo così. E questo è fondamentale, se tu riesci a fare questo, riesci a ottenere dei risultati stratosferi. Cioè, ti dico che riesci a ottenere veramente, lo porti lì dove vuoi arrivare tu. Importante questo. Poi ci sono altre tecniche un po' più subliminali da utilizzare, come ad esempio il quinto punto è creare degli ancoraggi, cioè usa un profumo particolare. E la tecnica degli ancoraggi con i profumi, lo vedremo, dura qualche mese. Devi di tanto cambiare profumo per cambiare ancoraggio, perché il profumo, l'ancoraggio olfattivo, l'ancoraggio emozionale, quindi nei momenti, diciamo, ad esempio sessualmente, appaganti, eccetera, tu metti quel profumo, sempre quel profumo, e poi ogni tanto lo cambi, perché vai a interrompere uno schema, è come se venissi percepita come una persona nuova, crea un nuovo ancoraggio. Quindi un desiderio che, perché il desiderio dopo un po' si esaurisce, ma tu lo rinnovi creando un ancoraggio nuovo. Sesto punto importantissimo. Intanto, prima di vedere il sesto punto, ti ricordo di A. iscriviti al canale, B. attivare la campanella. Ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo canale, basta cliccare su tasti in iscriviti, è facilissimo. Fai clic, iscriviti e poi selezioni la campanellina, tutte le notifiche, in modo tale che riceverai tutte le notifiche. E poi puoi seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E veniamo al sesto punto. Sesto punto, devi aggiungere del mistero alla tua vita. Cioè lasciare dei punti oscuri, lasciare dei punti in penombra, non dire tutto. Diceva Albert Camus, ci sono due verità, una delle quali non deve mai essere raccontata. E questo è molto importante, perché se tu racconti tutte le verità, se lui ti vede in tutti i modi, sa tutto di te, non sei seducente. Purtroppo, o per fortuna, diciamo così, la seduzione passa attraverso il mistero. È il mistero che riesce a sviluppare seduzione, è il mistero che riesce a sviluppare coinvolgimento. Quindi è importante non dire tutte le verità, lasciare un'area misteriosa nella tua vita, in modo tale che quest'area misteriosa non venga mai percepita. Settimo punto, importante, devi essere un po' spregiudicata e un po' irriverente nei suoi confronti. Cioè non essere riverente, ma essere irriverente. Cioè essere un po' spregiudicata. Non dico che devi trattarlo male, ma devi essere, dimostrare di essere al di sopra, diciamo così, da un certo punto di vista. Ottavo punto, importante, dimostra, senza esagerare, un qualche interesse per qualcun altro, per qualcun altro. Cioè ci deve essere sempre nella tua vita qualche corteggiatore, qualcuno che ti vuole conquistare, qualcuno che vuole in qualche modo sedurti, qualcuno che vuole in qualche modo ottenere delle cose da te. Ecco, questo è importantissimo, è fondamentale. Perché se vuoi, tu vuoi far sentire la mancanza di te, se vuoi far sentire la mancanza di un uomo, devi in qualche modo mettere, far entrare nella vita degli antagonisti. Perché lui inizierà a sentire la mancanza di te quando inizierà a percepire gli antagonisti. Gli antagonisti sono un qualcosa che gli fa percepire la mancanza di te. Questo è molto importante, questo è molto importante se tu vuoi ottenere dei risultati, dei risultati positivi, è importante, è molto importante per te. Poi, ci sono ancora due punti fondamentali. Prima di arrivare a questi due punti però, ti chiedo nuovamente di iscriverti al canale, se non l'hai ancora fatto, adesso clicca sul tastino iscriviti, e attiva la campanella in modo tale che puoi ricevere le notifiche. È un attestato di simpatia al canale, è gratuito, non ti costa niente, ma dai un attestato di simpatia, se ti piacciono i video, di essere parte, diciamo così, di questa community. Poi, per gli iscritti sto pensando a qualche regalo o qualcosa, adesso sto ancora valutando, però, diciamo così, iscriviti al canale. E poi, diciamo così, ci sono altri due punti fondamentali che sono rinnovati. Rinnovati, e questo è quello che ho detto nel profumo, devi rinnovarti. Rinnovarsi cosa vuol dire? Vuol dire ottenere dei risultati positivi. Rinnovarsi vuol dire raggiungere dei risultati estremamente positivi. E per rinnovarsi bisogna che ogni tanto cambi. Ogni tanto cambi, viene percepita come una donna nuova, devi cambiare look, devi cambiare taglio di capelli, devi cambiare modo di fare. Il rinnovamento viene percepita come una donna nuova. Sembra una stupidata, ma è veramente invece molto importante. Dà un rinnovamento alla relazione, come se ti conquistasse di nuovo. E poi, decimo punto, l'equilibrio tra desiderio e possesso, ma normalmente, molto importante, devi farti desiderare più che possedere. Perché se c'è eguaglianza tra desiderio e possesso, non c'è desiderio. Non c'è desiderio, non c'è attrazione. Quindi fa sì che il desiderio sia sempre un po' maggiore del possesso. Bene, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!